La guerra è una follia, mentre Dio porta avanti la sua creazione, la guerra distrugge. Distrugge l'essere umano e stravolge tutto, anche il legame tra fratelli. Così Papa Francesco, nell'Omelia della Messa, celebrata nel Sacrario Militare di Re di Puglia, davanti a più di 10.000 fedeli, ai piedi dei monumentali gradoni, dove riposano 100.000 caduti italiani della Prima Guerra Mondiale. In occasione del centenario dell'inizio della Grande Guerra, dopo aver pregato nel vicino cimitero austro-ungarico di Fogliano, che ospita le spoglie di 14.000 caduti, il Papa ha ricordato che l'ideologia è una giustificazione della guerra, che nasconde cupidigia, intolleranza e ambizione al potere. E quando non c'è l'ideologia, c'è la risposta di Caino. A me che importa, del mio fratello? Sopra l'ingresso di questo cimitero, a lei c'è il motto beffardo della guerra. A me che importa. Tutte queste persone che ripossano qui, avevano i loro progetti, avevano i loro sogni, ma le loro vite sono state spezzate. Perché? Perché l'umanità ha detto a me che importa. Anche oggi, ha aggiunto Papa Francesco, dopo il fallimento di un'altra guerra mondiale, forse si può parlare di una terza guerra combattuta a pezzi. Anche oggi le vittime sono tante, perché anche oggi dietro le quinte ci sono interessi, piani geopolitici, avidità di denaro e di potere, e c'è l'industria delle armi. E questi pianificatori del terrore, questi organizzatori dello scontro, come pure gli imprenditori delle armi, hanno scritto nel cuore, a me che importa. Questo atteggiamento, ha concluso il Papa, è esattamente l'opposto di quello che ci chiede Gesù nel Vangelo. Chi si prende cura del fratello, entra nella gioia del Signore. Chi invece non lo fa, chi con le sue omissioni dice, a me che importa, rimane fuori. Con cuore di figlio, di fratello, di padre, chiedo a tutti voi e per tutti noi la conversione del cuore. Passare da a me che importa al pianto. Per tutti i caduti della inutile strage, per tutte le vittime della folia della guerra in ogni tempo. Il pianto. Fratelli, l'umanità ha bisogno di piangere. E questa è l'ora del pianto. è l'ora del pianto. Grazie a tutti.